Il Vangelo di Domenica 6 marzo 2022 Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 1-13 In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose Sta scritto Non di solo pane vivrà l'uomo Il diavolo lo condusse in alto Gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse Ti darò tutto questo potere e la loro gloria perché a me è stata data e io la do a chi voglio Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me tutto sarà tuo Gesù gli rispose Sta scritto Il Signore Dio tuo adorerai A Lui solo renderai culto Lo condusse a Gerusalemme Lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui Sta scritto infatti Ai suoi angeli darà ordini ai tuo riguardo affinché essi ti custodiscano E anche Essi ti porteranno sulle loro mani Perché il tuo piede non inciampi in una pietra Gesù gli rispose È stato detto Non metterai alla prova il Signore Dio tuo Dopo aver esaurito ogni tentazione Il diavolo si allontanò da lui Fino al momento fissato Abbiamo iniziato e iniziamo il cammino della Quaresima Forse abbiamo partecipato Mercoledì al rito delle ceneri Quel pizzichino di cenere sul capo ci ricorda Che cosa è veramente essenziale nella vita Perché tutto il resto finisce in polvere È essenziale seguire il Signore È essenziale incontrare Cristo È essenziale imparare ad amare da Lui Ma questo cammino ci avvisa il Vangelo di oggi Il Vangelo della prima domenica È un cammino faticoso È un cammino di lotta La Chiesa ci invita ad andare insieme a Gesù Nel deserto quaresimale 40 giorni sono un tempo speciale nella Bibbia Sono il tempo dell'incontro con Dio E della lotta Della prova ma anche del fidanzamento Della conoscenza amorosa Sono il tempo in cui Mosè sta sul Monte Sinai Il tempo in cui Elia cammina verso l'Oreb Che è sempre il Sinai a incontrare il Signore Ecco sono un tempo speciale Come è speciale questa quaresima È tempo di riprendere in maniera più determinata La lotta contro il male che è in noi e fuori di noi È tempo di rimetterci in cammino Nella strada della conversione al Signore Ritornare a Lui Quale arma abbiamo per combattere la tentazione Per vincere questa lotta Ecco il Vangelo di oggi ce lo fa capire molto bene È la parola di Dio Per tre volte Gesù risponde al diavolo Sta scritto, sta scritto, è stato detto La parola del Signore è la nostra arma Fa un po' specie che anche il diavolo la usa Anche il diavolo cita la scrittura Sta scritto infatti ai suoi angeli Darà ordini eccetera Quindi c'è anche una lettura diabolica Della parola di Dio Possiamo piegare la parola di Dio A nostro piacimento Possiamo far dire a Dio Quello che Dio non dice E usarlo per giustificare Il nostro comportamento Ma se noi apriamo il cuore davvero Alla parola di Dio Se noi ci lasciamo guidare da Gesù In questo ascolto della parola Allora la parola ci trasforma La parola ascoltata Pregata, custodita E soprattutto direi vissuta Messa in pratica Cambia la vita Dà un altro sguardo sulle cose Ci aiuta a ritrovare l'essenziale E questa parola diventa luce e gioia per i nostri passi Buona Quaresima Buon cammino verso la Pasqua A tutti Buon cammino Grazie a tutti.